Un evento glamour immerso nel blu del mare Gallipolino, VIP d'eccezione, sono stati attratti irresistibilmente nel Salento per celebrare chi da una vita offre l'alta moda, le grandi firme, il fashion esclusivo. In una serata condotta dal giornalista Rai Attilio Romita, Mara Venera, Albano, Vittorio Sgarbi, Maria Scicolone e Cristiano Malgioglio si sono dati appuntamento nel circolo blu Salento a Gallipoli per festeggiare i 25 anni di moda di Gemma Azzurra. La catena di abbigliamento che Anna Giannone ha portato su Corso Roma con il preta portai di alta qualità per uomo, donna e bambino, boutique diretta da Carmine Negro. Gallipoli è straordinaria, è la terza volta che arrivo ma devo dire che questa volta sono rimasta davvero conquistata per quel successo del programma vita in diretta e a voi pubblico che seguite e anche in questi due o tre giorni avete dimostrato davvero un grande effetto. La Puglia è trapanata come dei bambini che vengono violentati da paleoni ovunque che distruggono il paesaggio più bello del mondo. Se poi a uno questa cosa piace e la difendo, io non voglio politizzare, ma occorre una rivoluzione, occorre ristabile che il paesaggio e i monumenti italiani sono sacri. La serata si è conclusa con una cena esclusiva nel ristorante del Circolo. L'evento, questo è sicuro, ha fatto da Apripista all'estate VIP 2012 del Salento.